connessione dei poveri ragazzi andiamo a giocare l'ultima partita otterremo solo una ricompensa in monete credo spero siamo contro uno di arena 5 e già partiamo male è già partiamo malissimo rega già uno a zero per lui già uno a zero per lui si comunque allora la vedo brutta questa partita la vedo brutta no ma perchè vi siete fermati tutti no rega dai per forza contro un arena 5 devo giocare niente abbiamo perso cioè ragazzi però per forza contro un arena 5 devo andare a giocare non è possibile ora ragazzi voglio essere contro un arena 4 ecco uno del mio livello finalmente e ora ragazzi voglio spaccare tutto letteralmente wow che paura danni collaterali cavolo cavolo si vabbè però non si può vai no connessione dei poveri c'è una connessione dei poveri oggi perché siamo contro quelli di arena 5 perché guarda quanto ci vuole per mettere una cosa 1 a 0 per noi subito wow wow sei molto intelligente vedo a quanto pare si no vabbè ma ha fatto davvero così vabbè tanto vinciamo quindi chi se ne frega andiamo a vincere questa partita 3 a 1 più 32 trofei wow 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 quanta roba allora 1387 ragazzi io non voglio giocare contro un arena 5 adesso e giochiamo contro non ci voglio credere cioè non è possibile non si può dai dai che prima ha portato fortuna una botta di fortuna stavolta no perché quello era un decenebrato ma questo sembra che sappia ragionare anche bene dai ma non si può ma non si può ma non si può gli mettiamo tutto tutto vabbè però ma muori male ti avessi trovato nei bauli sì vabbè però non si cioè non si può non è possibile non non gli ho fatto neanche un dano un 500 gli ho fatto cioè e vabbè poi dobbiamo mettergli il mini peccato mi spieghi come fa un 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 mini pecca a farsi togliere così tanta vita da una valchiria come no non ci devo riuscire io oh non ci devo riuscire dai su e vai andiamo uccidi no no vai no no non ci posso credere non all'ultimo secondo uccidi dai dai ma come è impossibile si vabbè però no dai guarda c'è non è impossibile non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile dai dai non è possibile 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 allora proviamo a mettere qualcosa ok vai dai dai vai si ok andiamo 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 di moschettiere ora dobbiamo solo proteggerci un'altra strega l'ha appena messa la strega non è possibile non è possibile dai no mancherò ancora 30 secondi non ce lo facciamo pareggio si bellissimo bellissimo dai non l'inferno ti uccido ah 5 secondi si oddio oddio come andiamo a vincere come andiamo a vincere e muori male ragazzi andiamo a finire così andiamo in arena 5 e vinciamo tutto è finita ragazzi è finito è finito tutto ora ragazzi ho un baule super magico si vabbè ora ragazzi che abbiamo finito ormai è finita quindi abbiamo vinto se la serie vi è piaciuta lasciate un like qua sotto ditemi se volete altre serie come questa e noi ragazzi iscrivetevi anche al canale di lukino king e noi ragazzi ci vediamo alla prossima grazie a tutti